Io non ho fatto niente. Io non ho visto niente. Io non so niente. Io sono innocente, non c'ero. E quei soldi li ho vinti onestamente. Alla taverna. Buttiamolo in cella. Io non so niente. Io non c'ero. No, un momento. Questo è Manuel Sanchez, detto coltello. No, conoscenza vecchia. Cuciglio merita un trattamento speciale. Vuoi sapere perché lo chiamano cuciglio? Eccolo il perché. E va bene, andiamo in cella. E ora alza questo piedino. Alza su. L'altro. E io lo portavo in cella con quel popò di roba. Ora che hai ripulito, mettilo al fresco. Giusto? Cuciglio? Sì, è giusto per te. Ma è giusto anche per me. Fortuna che io lo conosco bene, questo gran figlio di Cornuto. Papà.